carissimi amici del canale youtube dentro la notizia leggendo questo articolo intitolato wow la rivista time ammette in dettaglio come le elezioni del 2020 siano state truccate contro trump dalla cabala segreta delle ricche elite politicamente connesse di jim oft sono rimasto assai meravigliato dal fatto che il top del mainstream svelasse una delle congiure più eclatanti degli ultimi anni così sono andato a verificare se il time veramente ha affermato questo e sì la prestigiosa rivista pure esalta il complotto contro trump ma per la verità afferma che è stato fatto per salvare la democrazia ora nella mia mente sorgeva un'altra domanda perché ammettere e dettagliare a fondo l'operato dello stato profondo la risposta a questa domanda è molto importante ma prima di dirvi a che conclusione sono arrivato eccovi i passi più importanti del lunghissimo articolo del time intitolato la storia segreta della campagna ombra che ha salvato le elezioni del 2020 di molly ball una cosa strana è successa subito dopo le elezioni del 3 novembre niente i gruppi liberali avevano giurato di scendere in piazza pianificando centinaia di proteste in tutto il paese invece calò un silenzio inquietante una seconda cosa strana è accaduta fra i tentativi di trump di ribaltare il risultato le multinazionali americane si sono rivoltate contro di lui centinaia di importanti leader aziendali molti dei quali avevano appoggiato la candidatura di trump e sostenuto le sue politiche lo hanno invitato a concedere per il presidente qualcosa non andava in un certo senso trump aveva ragione c'era una cospirazione che si stava svolgendo dietro le quinte che ha sia limitato le proteste che coordinato la resistenza dei ceo entrambe le sorprese furono il risultato di un'alleanza informale fra attivisti di sinistra e titani del business il patto è stato formalizzato in una dichiarazione congiunta concisa e poco notata della camera di commercio degli stati uniti e dell'afl cio pubblicata al giorno delle elezioni entrambe le parti arriverebbero a vederlo come una sorta di patto implicito ispirato alle massicce a volte distruttive proteste di giustizia raziale delle state in cui le forze del lavoro si univano alle forze del capitale per mantenere la pace e opporsi all'assalto di trump alla democrazia è stata un'elezione così disastrosa che non è stato possibile discernere alcun risultato il loro lavoro ha toccato ogni aspetto delle elezioni hanno convinto gli stati a cambiare i sistemi di voto e le leggi e hanno contribuito a garantire centinaia di milioni di finanziamenti pubblici e privati hanno respinto le cause per il rigetto degli elettori e hanno convinto milioni di persone a votare per posta per la prima volta hanno spinto con successo le società di social media a tenere una linea più dura contro la disinformazione e hanno utilizzato strategie basate sui dati per combattere le diffamazioni virali hanno eseguito campagne nazionali di sensibilizzazione del pubblico e hanno aiutato gli americani a capire come si sarebbe svolto il conteggio dei voti per giorni o settimane impedendo al teoria del complotto di trump e alle false affermazioni di vittoria di ottenere più consenso il presidente ha passato mesi a insistere sul fatto che i voti per corrispondenza fossero un complotto democratico e che le elezioni sarebbero state truccate questa è la storia nascosta della cospirazione per salvare le elezioni del 2020 basata sull'accesso ai meccanismi interni del gruppo documenti mai visti prima e interviste con dozzine di persone coinvolte da tutto lo spettro politico è la storia di una campagna senza precedenti creativa e determinata il cui successo rivela anche quanto la nazione si avvicina al disastro ecco perché i partecipanti vogliono che la storia segreta delle elezioni del 2020 sia raccontata anche se suona come un sogno paranoico una cabala ben finanziata di persone potenti che spaziano fra industrie e ideologie che lavorano insieme dietro le quinte per influenzare le percezioni cambiare le regole e leggi dirigere la copertura dei media e controllare il flusso di informazioni non stavano truccando le elezioni le stavano rafforzando ad un certo punto nell'autunno del 2019 mike podorzer si convinse che le elezioni erano dirette al disastro ed era determinato a proteggerle per quasi un quarto di secolo podorzer consigliere senior del presidente del afl cio la più grande federazione sindacale della nazione ha schierato le ultime tattiche e dati per aiutare i suoi candidati favoriti a vincere le elezioni podorzer iniziò a sentire altre persone desiderose di unire le forze il fight back table una coalizione di organizzazioni di resistenza aveva iniziato a pianificare lo scenario intorno al potenziale per un'elezione contestata riunendo attivisti liberali a livello locale e nazionale in quella che chiamavano democracy defense coalition un gruppo di ex funzionari eletti stava ricercando i poteri di emergenza che temevano trump potesse sfruttare podorzer ha trascorso mesi a riflettere su scenari e parlando con esperti non è stato difficile trovare liberali che vedessero trump come un pericoloso dittatore ma podorzer è stato attento a evitare l'isteria il 3 marzo podorzer ha redatto una nota riservata di tre pagine intitolata minacce alle elezioni del 2020 il pro memoria delinea quattro categorie di sfide attacchi agli elettori attacchi all'amministrazione elettorale attacchi agli oppositori politici di trump e sforzi per invertire i risultati delle elezioni poi covid 19 esploso al culmine della stagione delle elezioni primarie i normali metodi di voto non erano più sicuri per gli elettori o per i volontari però più anziani che normalmente lavorano nei seggi elettorali nel suo appartamento nella periferia di dc podorzer iniziò a lavorare tenendo riunioni zoom back to back per ore al giorno con la sua rete di contatti attraverso l'universo progressista il movimento operaio la sinistra istituzionale come planet parenthood e green peace gruppi di resistenza come indivisible e move on esperti di dati e strateghi progressisti rappresentanti di donatori e fondazioni organizzatori di base a livello statale attivisti per la giustizia raziale ed altri ad aprile podorzer ha iniziato a ospitare uno zoom settimanale di due ore e mezza gli incontri divennero il centro galattico per una costellazione di agenti di sinistra che condividevano obiettivi sovrapposti ma di solito non lavoravano di concerto a marzo gli attivisti hanno fatto appello al congresso affinché indirizzasse i fondi per i sussidi covid all'amministrazione elettorale guidate dalla leadership conference on civil and human rights più di 150 organizzazioni hanno firmato una lettera a ogni membro del congresso che chiedeva due miliardi di dollari in finanziamenti elettorali ha avuto un certo successo il keres hat approvato alla fine del mese conteneva 400 milioni di dollari in sovvenzioni agli amministratori delle elezioni statali un assortimento di fondazioni ha contribuito con decine di milioni di finanziamenti per l'amministrazione elettorale l'iniziativa chan zuckerberg ha devoluto 300 milioni di dollari ma le bugie e le teorie del complotto di trump la forza virale dei social media e il coinvolgimento di ficcanaso stranieri hanno reso la disinformazione una minaccia più ampia e più profonda al voto del 2020 lora queen una veterana progressista che ha cofondato catalyst ha iniziato a studiare questo problema alcuni anni fa ha diretto un progetto segreto e senza nome di cui non ne ha mai discusso pubblicamente prima per rintracciare la disinformazione online e ha cercato di capire come combatterla maggiore il coinvolgimento di qualcosa più le piattaforme lo potenziano l'algoritmo lo legge come oh questo è popolare le persone ne vogliono di più la soluzione ha concluso è stata quella di fare pressione sulle piattaforme per far rispettare le loro regole sia rimuovendo contenuti o account che diffondono disinformazione sia controllandoli in modo più aggressivo in primo luogo nel novembre 2019 mark zuckerberg ha invitato nove leader dei diritti civili a cena a casa sua dove lo hanno avvertito del pericolo delle falsità legate alle elezioni che si stavano già diffondendo incontrollate ci sono voluti spinte sollecitazioni conversazioni brainstorming tutto questo per arrivare a un punto in cui siamo finiti con regole e applicazioni più rigorose afferma vanita gupta presidente e ceo della leadership conference on civil and human rights che ha partecipato alla cena e anche incontrato il ceo di twitter jack dorsey e altri gupta è stata nominata procuratore generale associato dal presidente biden molti di questi organizzatori facevano parte della rete di podorzer dagli attivisti negli stati campo di battaglia che hanno collaborato con la democracy defense coalition alle organizzazioni con ruoli di primo piano nel movement for black lives più di 150 gruppi liberali dalla marcia delle donne al sierra club a color of change da democrats point com ai democratic socialist of america si sono uniti alla coalizione protect the results il sito web del gruppo ora defunto aveva una mappa che elencava 400 dimostrazioni post elettorali programmate da attivare tramite messaggio di testo il 4 novembre per fermare il colpo di stato che temevano la sinistra era pronta inondare le strade ma dietro le quinte la comunità imprenditoriale era impegnata nelle sue ansiose discussioni su come si sarebbero svolte le elezioni e le sue conseguenze le proteste per la giustizia raziale dell'estate avevano inviato un messaggio anche agli imprenditori potenziali disordini civili avrebbero sconvolto l'economia trump era in vantaggio sui sondaggi pre elettorali vincendo facilmente florida ohio e texas e mantenendo michigan wisconsin e pennsylvania per quanto desiderosi di dare una prova di forza la mobilitazione immediata poteva ritorcersi contro e mettere a rischio le persone le proteste che si sarebbero trasformate in scontri violenti avrebbero fornito a trump un pretesto per inviare agenti o truppe federali come aveva fatto durante l'estate il presidente ha invitato i leader del gop della legislatura del michigan il presidente della camera lee chetfield e il leader della maggioranza del senato mike shirky a washington il 20 novembre è stato un momento pericoloso se chetfield e shirky avessero accettato di eseguire gli ordini di trump i repubblicani di altri stati avrebbero potuto fare altrettanto ero preoccupato che le cose sarebbero diventate strane dice jeff timmer un ex presidente del gop del michigan diventato attivista anti trump i difensori della democrazia hanno lanciato una campagna stampa a tutto campo engler un ex capo della business roundtable ha telefonato a donatori influenti e colleghi anziani statisti del gop che potevano fare pressioni private sui legislatori gli attivisti di race hanno inondato il live streaming e hanno riempito twitter con il loro hashtag il voto certificato è finito 3 a 0 l'altro repubblicano si è astenuto dopodiché si sono arresi la pennsylvania il wisconsin e il resto degli stati certificando i propri elettori i leader aziendali hanno denunciato l'attacco del 6 gennaio e alcuni hanno detto che non faranno più donazioni ai legislatori che si sono rifiutati di certificare la vittoria di biden podorzer e i suoi alleati stanno ancora tenendo le loro sessioni di strategia su zoom valutando le opinioni degli elettori e sviluppando nuovi messaggi e trump è in florida di fronte al suo secondo impeachment privato degli account twitter e facebook che ha usato per spingere la nazione al punto di rottura alla fine ha vinto la democrazia la volontà del popolo ha prevalso ma è assurdo in retrospettiva che questo sia ciò che è servito per organizzare un'elezione negli stati uniti d'america per organizzare diciamo manipolare e si conclude così l'articolo del time volendo farci credere che abbia prevalso la volontà del popolo e che biden sia stato così il presidente più votato e amato di tutti i tempi e ora veniamo alla ragione di questo articolo perché ammettere e dettagliare questa colossale congiura contro trump forse qualcosa di grosso sta venendo a galla e la cabala pensa di anticipare i tempi cercando di convincere le masse che ha ordito questo complotto non per alterare il risultato elettorale bensì per salvare la democrazia e state pur certi che inculcando questo pensiero con la massiccia propaganda del mainstream la gente si convincerà e sarà pure grata allo stato profondo per aver salvato l'integrità delle elezioni ma la verità viene sempre a galla prima di concludere volevo ringraziare gli amici della Bife International una delle innumerevoli piccole e medie aziende del Made in Italy di successo che consiglia C-Querzine un integratore innovativo che associa vitamina C, quercetina e zinco per il buon funzionamento del sistema immunitario la vitamina C contenuta in C-Querzine è una formulazione a rilascio prolungato la quercetina protegge la vitamina C dall'ossidazione e ne favorisce l'assorbimento lo zinco piccolinato contenuto in C-Querzine è la forma più biodisponibile la Bife quando ha saputo che Youtube ci ha privato degli introiti pubblicitari e degli abbonati ha deciso di dare anch'essa un contributo a favore della libertà di tutti gli italiani carissimi amici del canale Youtube dentro la notizia un vivo ringraziamento a tutti voi che aiutate con le vostre donazioni la libera informazione a tutela del popolo senza il vostro aiuto di cui vi siamo profondamente grati non potremo crescere e migliorare il nostro servizio informativo chi fosse interessato a sponsorizzare la propria azienda su questo canale può contattarci tramite le mail in descrizione grazie ancora del vostro sostegno e per la condivisione dei video più siamo più forza avremo uniti si vince un abbraccio dal vostro Roby